Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick Dufer e ho il grande piacere e onore di avere ospite qui sul podcast il professor Odifreddi. Buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno a te e buongiorno a tutti. È veramente un grande piacere. Sa perché? Perché io ho seguito sempre... Perché non abbiamo ancora cominciato. È meglio dirle prima queste cose. È meglio dirle prima. La captazio benevolensi e viene sempre più prima. Però in realtà devo dire che nel mio percorso io ho sempre osservato con grande piacere il suo lavoro per un semplice fatto. Perché lei è stata una delle figure all'interno del panorama italiano che mi ha insegnato una cosa fondamentale. Che ci si può esprimere fondamentalmente su qualsiasi cosa fin tanto che si hanno gli argomenti. E questa cosa mi è sempre piaciuta perché in realtà rifugge tanto dal principio di auctoritas, quello che bisogna parlare soltanto se si hanno i titoli, se si è riconosciuti, e dall'altra parte si rifugia anche dalla Dunning-Kruger, cioè del fatto di sapere tutto anche senza avere delle idee a sostegno. E io credo che questo sia il segno di una mente libera. E la mente libera poi dice anche delle cose che fanno incazzare. Insomma, il professor Odifreddi, lei spesso nel corso della sua carriera ha fatto incazzare. E a me questa cosa piace tanto perché anch'io amo fare incazzare la gente quando posso. Mi sono incazzato anch'io di alcune cose che ho detto, quindi... Oh, che bello! Ecco, anche questa frase è bellissima, è bellissima, veramente. È un vero piacere perché, insomma, credo che lei sia la figura adatta a quello che facciamo qui su Daily Cogito. Come sa, qui ci occupiamo di filosofia, però un po', diciamo così, a tutto tondo, toccando l'attualità. E sa, io ho voluto lei come ospite perché c'è un argomento che in queste settimane mi sembra in pochi stiano toccando. Ed è la reazione, molto irrazionale, che va verso di nuovo un rinnovamento del sentimento religioso di fronte alla crisi che stiamo vivendo. Perché in effetti la pandemia, il Covid, hanno portato a delle difficoltà naturali, insomma, economiche, personali. E abbiamo visto anche molta politica a strizzare l'occhiolino in maniera assolutamente non timida a un certo sentimento religioso che riporta le persone a tempi che forse, persone un po' più razionali, vorrebbero veder trascorsi che fossero nel passato. Invece non è così. E allora, la domanda che vorrei porle inizialmente è, lei sta vedendo, sta sentendo una crescita in questo tipo di sentimento? O è soltanto una percezione? Cioè, le persone stanno tornando ad essere molto più religiose e molto meno razionali rispetto al passato? Oppure in realtà il fenomeno di secolarizzazione è comunque in atto e non dobbiamo preoccuparci troppo? Beh, c'è una terza possibilità che mi sembra quella che in questo momento potrei prendere come mia, cioè il fatto che non ci sia mai stata una vera secolarizzazione. Tutto sommato, prendiamo per esempio anche soltanto questo governo, prima della pandemia però, un governo che dura in due fasi diverse ovviamente da quasi due anni, e i tre personaggi chiave di questo governo sono stati ovviamente Conte, Di Maio e Salvini perlomeno nella prima parte. Beh, Conte anzitutto è un allievo dei preti naturalmente, era un allievo del Cardinal Silvestrini, anzi quello è uno dei motivi per cui poi anche se in silenzio è emerso ed è diventato appunto il Presidente del Consiglio che oggi tutti conoscono. Tra l'altro, seguace e devoto di Padre Pio, lui l'ha detto chiaramente, lui credo che venga dalla Puglia se non sbaglio, comunque in ogni caso, anche se non viene dalla Puglia, purtroppo il fenomeno di Padre Pio non è ristretto soltanto. Non è regionale. Anzi, è addirittura mondiale, perché io ricordo che molti anni fa, io ho insegnato per tanti anni negli Stati Uniti, si vedevano addirittura i ritratti di Padre Pio sui camion a protezione dei camionisti e così via. Però, un conto sui camionisti, un conto sui Presidente del Consiglio, è una cosa un po' diversa. Il secondo personaggio che abbiamo citato, cioè Di Maio, l'abbiamo visto tutti durante il miracolo di San Gennaro, andare a baciare il sangue di San Gennaro, lui viene invece da Napoli, dalle vicinanze, diciamo così, di Napoli, l'avrà fatto per motivi politici, però l'ha fatto, quindi vuol dire che quello è una delle cattazze benevolenze di cui si parlava poco fa. E Salvini, lo conosciamo tutti, con i suoi rosari sventolati, in maniera anche abbastanza grossolana, con questo strizzare l'occhio alla Chiesa, e a certa parte, perlomeno, della Chiesa, sembra che lui dialoghi parecchio, e anche la Meloni, tra l'altro, con la parte ovviamente più conservatrice della Chiesa. Quindi, dal punto di vista del governo, non mi sembra che ci sia stato un grande cambiamento. Dal punto di vista degli elettori, nemmeno, io credo che la secolarizzazione, purtroppo, non va di pari passo con l'allontanamento della religione, sembra quasi un visticcio di parole. In realtà, poi, secolarizzazione è dovuta più che altro alla civiltà, o alla società, meglio dire, dei consumi. E forse la gente va meno in Chiesa, ma non per questo è meno superstiziosa, e quindi continua a credere esattamente a quello che... Forse la gente va nei centri commerciali con lo stesso sentimento con cui un tempo andava in Chiesa, e va in Chiesa con lo stesso sentimento con cui di solito va nei centri commerciali. Quindi un po'... La seconda parte è quello che sperano i preti, cioè che ci vada col portafoglio pieno ed esca col portafoglio vuoto. Ecco, perfetto, perfetto. La Chiesa ottimale. Io, non so, io ho questa sensazione. La sensazione è che ci sia un doppio movimento che va di pari passo e che sta peggiorando la situazione. Da un lato c'è una sempre maggior sfiducia nei confronti di quelle figure che in realtà diffondono un certo tipo di atteggiamento più razionale, più scientifico. Ovviamente in questi tempi la demonizzazione della medicina va di pari passo con questa sempre crescente affiliazione a discorsi religiosi e via dicendo. E c'è una grande ingenuità perché a me è capitato di discutere anche con alcuni utenti che mi seguono di questo fatto e alcuni vedono i gesti alla Salvini, quindi il Rosario in mano, oppure Gennaro di Maio, San Gennaro di Maio e via dicendo, lo vedono un po' come un gioco di prestigio politico, ok? In realtà però poi si dimenticano che l'impatto che queste figure hanno sulla mente degli elettori, soprattutto magari in alcuni territori dove la scolarizzazione è molto, molto più arretrata rispetto ad altre zone del paese, è enorme perché voglio ricordare che, voglio dire, ci sono dei noccioli veramente duri, ancora quasi, mi verrebbe da dire, fondamentalisti, senza il senso violento di questa parola della religione cattolica, in moltissime zone. E questo di solito, come diceva il buon Spinoza, ha un effetto dirompente, perché quando tu hai dei noccioli di superstizione, durante un periodo di crisi, quindi quando tutti si sentono più deboli, più lasciati un po' il destino e alla casualità, si tende anche a prendere quella zona grigia di popolazione, quelli né razionalisti, né religiosi, che però comincia ad avvicinarsi sempre di più a quel lato. E ciò mette in crisi, dal mio punto di vista, quel progetto che inizialmente doveva essere reale, è quello dello Stato laico, che in realtà, e qui vorrei arrivare un po' al nocciolo, e questo conferma quello che diceva lei, è Stato laico, lo Stato, scusatemi la ripetizione, nel senso però deteriore del termine, perché tutte le simbologie religiose, e non soltanto le simbologie tipo il crocefisso, ma anche proprio i riti, le cerimonie, la riverenza nei confronti di un certo tipo di discorso, si sono sempre mantenute, soprattutto all'interno delle istituzioni, e non si è mai raggiunta quella che invece doveva essere il traguardo fin dall'inizio, la aconfessionalità, cioè, di fatto, la totale espulsione dall'ambito pubblico di quelli che sono i simboli religiosi. Non so come vede lei questa situazione, insomma, adesso, e qual è magari una possibile via d'uscita, se è possibile trovare. Dunque, anzitutto, in Italia, questi discorsi, sono contento che qualcuno li faccia, ma sono in un certo senso anacronistici, nel senso letterale, che non appartengono al nostro tempo, perché l'Italia è stata un paese in un certo senso laico, tra virgolette, quando il motto era appunto Libera Chiesa in Libero Stato, cioè nel periodo immediatamente successivo all'unità d'Italia, quando ci fu la riunificazione dell'Italia dal 1861 fino a un momento preciso, 1929. In quel periodo, benché il governo fosse in mano a moltissimi governanti che poi formalmente e forse anche effettivamente erano religiosi, però c'era questa mentalità, questa cultura di tenere separati lo Stato e la Chiesa. Da un certo punto di vista la cosa era ovvia, perché una buona parte dello Stato, del Regno Italiano, è nato ovviamente togliendo territori al Vaticano, quindi lì la Chiesa era non soltanto un avversario culturale, ma era ovviamente un avversario politico, quindi era, in un certo senso si era favoriti ad andare verso il Libera Chiesa in Libero Stato. Addirittura c'è stato un momento glorioso che oggi si può ricordare con moltissima nostalgia, è passato più di un secolo, ormai 140 anni probabilmente, e sono cose che oggi sarebbero inconcepibili. Cioè il momento in cui uno dei governi che citavano, non so se fosse il governo Crispi, ma non sono sicuro, decise di far erigere una statua a Giordano Bruno a Campo dei Fiore. Sì, è stato Crispi. Appunto, il ricordo di quello che era successo nel 1600, 17 febbraio, col rogo di Giordano Bruno. E la cosa interessante è che ovviamente Roma era già stata conquistata, quindi era dopo 1870, non si poteva pretendere di imporlo al Papa questo. Però il Papa fece fuoco e fiamme, era Leone XIII all'epoca e lui minacciò, anzi, promise che se ne sarebbe andato dall'Italia se un insulto del genere fosse stato fatto al Papato. Arrivò addirittura a scrivere una lettera all'imperatore Francesco Giuseppe chiedendo di andare in esilio in Austria, che è un paese cattolico e l'imperatore gli rispose che lui poteva andare in esilio se voleva ma non a casa sua naturalmente. E purtroppo poi Leone XIII non mantenne la parola. Le promesse da prete giustamente. Da Papa addirittura. Da Papa. Quindi la statua fu eretta ma la cosa interessante è che nel 1929 quando Mussolini che in realtà come tutti sanno aveva un'origine socialista e atea Mussolini girava da giovane in Italia facendo dibattiti contro il clericalismo. Era il cosiddetto Mangiapreti proprio. Era un Mangiapreti tra l'altro Romagnolo giustamente e con un argomento quasi vincente cioè lui metteva il suo orologio se lo toglieva dal polso lo metteva agli inizi del dibattito sul tavolo alzava gli occhi al cielo e rivolgendosi direttamente al creatore gli diceva se ci sei ti do 5 minuti per fulminarli. Purtroppo se c'era non l'ha mai fatto e ha fatto molto male naturalmente ci avrebbe risolto un po' di problemi. E' una cosa di cui chiederemo conto al creatore a momento del giudizio universale perché non è detto che il giudizio debba sempre andare in una direzione potrebbe anche essere l'altra della gente che dice adesso ti vorremmo chiedere conto di quello che hai fatto e vedere che è quello a farti fare nel resto della tua vita. e comunque il Vaticano chiese che all'atto della firma dei patti lateranensi fosse abbattuta la statua di Giordano Bruno per chiudere diciamo questo periodo e lì Mussolini ebbe diciamo così uno slancio finale si ricordò di quello che era stato da giovane nostalgico è bello non la nostalgia che oggi la nostalgia della nostalgia noi abbiamo una meta nostalgia una doppia nostalgia e lui disse in un famoso discorso alla camera appunto quando parlava dei patti lateranensi disse la triste statua del triste frate rimane dove ed è ancora lì oggi e queste cose oggi sarebbero impensabili chiedere appunto di fare delle azioni di questo genere nei confronti del Vaticano anzi nei confronti di un Papa poi come Papa Francesco che persino i laici osannano come una persona rivoluzionaria o perlomeno riformatrice dimenticandosi di quello che Papa Francesco è stato per tutto il periodo del suo cardinalato quando era il primate di Argentina prego certo se posso intervenire qua dimenticandosi anche il fatto che la narrazione di Papa Francesco il Papa dell'apertura e Papa Ratzinger il Papa della chiusura in realtà è esattamente rovesciata sotto moltissimi aspetti soprattutto per quello che è stato fatto all'interno della Chiesa dal punto di vista per esempio dei rapporti con la Banca Vaticana e via dicendo quindi c'è proprio una proiezione fantasiosa che vuole venderci un'immagine di una Chiesa che si sta aprendo quando in realtà è una Chiesa che sotto molti aspetti si sta chiudendo proprio in risposta ai periodi che stiamo vivendo perché non solo le nuove tecnologie ma anche la crisi che stiamo subendo insomma che ci porterà avanti per ancora alcuni tempi e che porterà con sé altri strascichi sta portando la Chiesa comunque a delle recrudescenze in questo ambito però poi io osservo una cosa osservo che ci sono alcuni aspetti perché vorrei andare un po' in profondità e andare a porre la questione su qual è un po' la radice di questo sentimento religioso che sì ha a che fare con la paura perché la paura della transitorietà e via dicendo ci ha sempre fatto legare a dei sentimenti irrazionali dell'immortalità della salvezza e del giudizio universale quello vero non quello alla rovescia purtroppo però devo dire che è un'idea borghesiana è un'idea alla borghes che sposerei appieno ma più che altro alla radice io trovo che ci sia ed è il motivo per cui lo Stato italiano non si è mai trasformato in laico e forse la laicità rimane una chimera in buona parte del mondo da questo punto di vista la moltiplicazione degli idoli è qualcosa che non avviene soltanto nell'ambito religioso io qualche tempo fa ho letto un suo bellissimo articolo che ho sposato appieno quando alla morte di Stephen Hawking lei ha commentato sull'Huffington Post dicendo una cosa che secondo me è sacrosanta dicendo Stephen Hawking ottimo scienziato ottimo divulgatore il libro sui buchi neri è un bellissimo pezzo di divulgazione che io ho amato però dall'altra parte ne hanno fatto un idolo letteralmente un idolo cioè Einstein Galileo non sono idoli sono invece persone che hanno riconoscimenti nell'ambito della creazione di un pensiero che poi ha fatto progredire la conoscenza scientifica mentre Stephen Hawking e lei in quell'articolo lo dice perché l'ho ripreso proprio in questi giorni in preparazione a questa chiacchierata e dice è incredibile perché poi alla Royal Society c'era non mi ricordo chi uno scienziato che aveva appena preso il Nobel quello della parte Higgs 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 del bosone del bosone di Higgs e nessuno stava lì intorno a lui mentre tutti intorno a Hawkins che in realtà peraltro era in grave difficoltà io l'ho visto dal vivo Stephen Hawking mi ricordo che sono andato via con il magone perché mi ha fatto stare veramente male cioè mi ha fatto stare male umanamente perché una persona in una sofferenza incredibile per decenni e anche lì si vede la creazione di un'idolatria cosa che contraddice enormemente i padri del pensiero scientifico mi vengono in mente l'idola di Bacone e quindi la distruzione di quelle immagini a cui ci leghiamo non perché quelle immagini ci permettono di selezionare la realtà e di conoscerla meglio ma perché ci fanno sentire al sicuro e ci forniscono un sentimento di conforto questo tipo di sentimento è difficilissimo da criticare perché quando lo si fa infatti io già so già solo con questa frase la gente sui commenti andrà fra di testa ovviamente perché in realtà quando si tocca questo tipo di argomento si tocca qualcosa di molto profondo ora dal suo punto di vista lei che insomma ha avuto esperienza nell'UAR nelle relazioni con tanto atei quanto religiosi vede una via d'uscita da questa cosa cioè è talmente radicato nell'essere umano che sarà sempre insuperabile oppure ci sono delle costruzioni sociali che possono essere messe in atto per fare un passo in avanti vero ma il laicismo da questo punto di vista più in generale il pensiero razionale sono un po' se uno vuole fare una metafora come il pedalare in salita se uno smette di pedalare va in discesa cioè ritorna indietro e questo è molto seccante perché significa che c'è bisogno di necessario avere una costante pedalata appunto cioè mettere immediatamente sempre continuare a lavorarci sopra e se uno smette il momento torna indietro mentre invece la posizione opposta appunto è quella che va secondo gravità segue le leggi di minima le linee di minima resistenza e quindi ovviamente è avvantaggiata da questo punto di vista d'altra parte appunto lei citava il fatto che in qualche modo sembra esserci quasi una pulsione una tensione o una propensione naturale a credere e c'è un bel libro che probabilmente conosce di Vallortigara e Girotto e Pievani che si chiama Nati per credere in cui loro cercano di spiegare nell'unico modo che si può fare scientificamente cioè dal punto di vista evoluzionista qual è il vantaggio per la sopravvivenza dell'uomo avere questo questo tipo di pulsioni questo questo sentimento religioso che poi ovviamente non è un sentimento specifico nei confronti di alcune religioni ma è la propensione che poi è quella su cui poi si basano ovviamente coloro che le religioni le commerciano diciamo così o le vendono tra l'altro mi viene in mente a proposito di Papa Francesco visto che ho parlato di commercio quando ci fu il conclave che elesse Papa Francesco subito appunto i media incominciarono a esaltarlo ignari di quello che lui era stato appunto e tra l'altro vorrei dire che in parte il motivo per cui c'è questa confusione nei confronti di Papa Francesco è un motivo che poi è servito anche ad altri leader politici a fare carriera penso per l'appunto a ex socialisti come Mussolini o a Hitler stesso che in fondo ha fondato un partito che si chiamava nazionalsocialismo cioè è la confusione nel caso di Papa Francesco fra l'essere di sinistra tra virgolette e essere populisti è una cosa molto diversa Papa Francesco è un frutto della sua terra come ovvio che sia e l'Argentina quello è la patria del populismo il peronismo il pidela e così via e le posizioni di Papa Francesco sono più vicine a quelle che non a quelle che Scalfari crede essere invece quelle di Gesù Cristo originario e così via quindi è interessante che ci sia appunto questo aspetto che noi siamo portati a idolatrare diciamo così le persone a fare apoteosi anche degli scienziati se pensiamo le statue di Newton che ci sono al Trinity College che sono una bellissima cosa intendiamoci però è sempre luogo e sotto c'è quella frase di Lucrezio che dice onorò il genere umano che ovviamente Lucrezio attribuiva o diceva per Epicuro e invece Newton che diventa il nuovo Epicuro e così via quando uscì il principio matematica agli inizi c'era una ode che era stata scritta dall'astronomo Halley quello della cometa di Halley proprio in onore di Newton quindi c'è un po' questo anche nell'atteggiamento scientifico è vero che quelli erano scienziati che poi erano anche credenti perché Newton stesso insomma ha rapporto con la religiosità eccetera erano altri tempi però c'è questo atteggiamento nel caso di Hawking io me lo ricordo molto bene perché c'era quel giorno la Royal Society era l'inaugurazione appunto di una mostra legata però l'altro appunto più più alla particella di Hicks che non quella di Hawking però bisogna dire che quando è entrato Hawking sembrava entrato l'hanno fatto entrare perché ovviamente lui non si doveva ed era veramente la sensazione di penosità che lei ha detto quando lo si vedeva questo corpo che in realtà era praticamente senza vita con la pava che gli scivolava e qualcuno che continuamente aveva non so se fosse la figlia o comunque perlomeno qualcuno della sua segretaria che continuava a pulirlo lui che non riusciva a parlare perché ovviamente anche gli interventi che faceva erano registrati prima perché può darsi che lui effettivamente facesse questo collegamento muovendo gli occhi eccetera ma è una cosa che richiedeva dieci minuti per dire ciao quindi è una cosa così e questo è quello che in realtà poi attira la gente ci sono stati come appunto è già stato detto moltissimi scienziati in particolare fisici molto più bravi molto più duraturi come impatto sulla fisica di Hockin però il fatto che lui fosse in queste condizioni effettivamente lo rendeva tipicamente un uomo mediatico e lui in parte ci giocava perché poi nei suoi libri non è che gli riscrivessero altri queste cose diceva anche con i film e tutto il nuovo Einstein e così via bisogna avere il senso delle proporzioni e la ragione ci aiuta a quello come abbiamo detto agli inizi cioè il pensiero razionale dovrebbe essere quello che si pone di fronte ai fatti e cerca di evitare di affrontare questi fatti in maniera istintiva viscerale che è proprio contrario del pensiero razionale però come dicevo è un pensiero che va in salita e quindi come ci si distrae anche coloro che sono poi razionali per elezione o per vocazione in realtà poi finiscono di cascarci letteralmente il masso di Sisypho insomma che alla fine ritorna sempre indietro che non dovrebbe scoraggiare perché tanti poi si scoraggiano in realtà bisognerebbe che fosse un se uno deve farlo per tutta l'eternità poi certo vedi che si scoraggia tutta l'eternità però per fortuna l'eternità l'eternità non ci compete a quanto non ci compete poi c'è una cosa interessante perché lei ha appena fatto emergere un aspetto che è anche molto attuale quello delle statue ok lei avrà sicuramente seguito questa vicenda dell'abbattimento delle statue c'è un movimento interessante che io ho notato abbattute sono quasi tutti simboli comunque di laicità cioè sono quasi tutti monumenti di uomini storici poi criticabilissimi e via dicendo però i simboli religiosi non vengono toccati cioè nel senso è molto interessante questa cosa perché si abbattono le statue nel tentativo di dire c'è un passato che non ci piace un passato che vogliamo rigettare che vogliamo dimenticare e però poi i simboli che hanno avuto un maggiore impatto nella storia che hanno rappresentato veramente un dominio spesso sanguinoso e terrificante non vengono toccate e qui c'è un ulteriore aspetto e mi collego a quello che diceva lei l'idolatria che si costruisce intorno a un personaggio poi io credo sia diversa dall'usare un personaggio come simbolo cioè cos'è che voglio dire a me piacerebbe vedere un giorno una statua di Stephen Hawking o di Einstein nella piazza della mia città perché in realtà poi la razionalità ci impone di capire che magari io e lei il libro di Einstein o di Hawking ce lo leggiamo e quindi conosciamo il personaggio però poi c'è bisogno di far conoscere certe idee certi progressi e anche dei valori che questi persone portano con sé anche all'uomo della strada quello che magari in un museo non ci entra che non leggerebbe un libro e quindi è interessante ci sarebbe tutto un discorso vastissimo da fare sulla differenza fra idolatria e simbologia la simbologia non è necessariamente idolatria però oggi sta trionfando un'idolatria al punto che appena Erdogan va a toccare Santa Sofia e la trasforma in moschea di nuovo il primo a essere interpellato è Papa Francesco e tutti si dimenticano che in realtà quella è una questione politica e non religiosa cioè una questione che attiene a fenomeni economici sociali eppure e qui entriamo nell'ultimo punto che volevo toccare i media cioè i media sembra che stiano cavalcando enormemente sempre di più questo sentimento quindi c'è in quel masso di Sisypho che continua a scendere c'è un ulteriore peso i mass media che continuamente vanno a spingere affinché quel masso torni indietro Ah su questo io sono perfettamente d'accordo perché i media spesso si presentano come l'antidoto verso certe politiche per esempio verso il populismo verso il nazionalismo il razzismo eccetera ma non si rendono conto o fingono di non rendersene conto perché spesso molti giornalisti sono troppo intelligenti per non sapere di mentire mentre parlano in realtà sono l'altra faccia della medaglia non dico che siano la stessa cosa sono due facce per la punta della medaglia però stanno insieme e il fenomeno per esempio che si combatte a seconda dei casi che sia quello politico o quello politicamente corretto o quello religioso eccetera è creato dai media per esempio si fa tanto parlare di Salvini basterebbe parlarne meno sui media e il fenomeno già di per sé diminuirebbe mentre invece parlandolo in quel modo criticandolo in quel modo si finisce di alimentarlo perché? perché poi alimentando quel fenomeno si alimenta anche colui che lo combatte i grandi giornalisti spesso fanno le carriere combattendo certi uomini politici pensiamo a Berlusconi che ne ha avuto Travaglio ma anche Repubblica come giornale per esempio eccetera sono vissuti di quello e nel momento in cui poi manca Berlusconi bisogna creare un altro perché altrimenti crolla il potere mediatico che Travaglio da una parte Repubblica ma poi non ci sono solo loro naturalmente li abbiamo citati come esempi diciamo così di questo andazzo mediatico e alla fine non esisterebbero e quindi c'è interesse io per esempio mi chiedo i conduttori televisivi anche conduttori che poi hanno una cultura sulle spalle pensiamo per esempio alla Berlinguer che in fondo a parte il nome che porta il papà che ha avuto e anche il suo percorso politico precedente come giornalista però da quando ha questa trasmissione televisia poi si riempie di ospiti che sono quelli che poi attraggono il pubblico e qual è il motivo è che se uno chiama degli ospiti che sono più sensati che potrebbero fare dei discorsi più interessanti o più appunto importanti per il pubblico poi la gente non li guarda e allora non funziona la trasmissione eccetera quindi è semplicemente un morderci la coda e questo è paradossale poi io che ho fatto il logico per tanti anni mi diverto a seguire i paradossi è paradossale perché anche in politica più generalmente si fa la stessa cosa ad esempio per quale motivo oggi noi abbiamo un governo come quello che abbiamo o che non abbiamo perché non si può nemmeno chiamare governo quella specie di caricatura di cose perché l'idea è dobbiamo salvare la democrazia e impedire che vada qualcun altro a governare e per salvare la democrazia che cosa si fa? si impedisce che ci sia la democrazia perché la democrazia significa appunto che uno va a chiedere agli elettori che cosa vogliono e dice ma poi gli elettori vogliono quell'altro e vabbè questa è la democrazia se tu sei democratico devi accettare il fatto che in realtà gli elettori te li devi conquistare non è che devi mantenere il potere impedendo che loro dicano l'opinione che hanno perché non ti piace quell'opinione e lo fai per salvare la democrazia questo è veramente paradossale è interessante perché è un paradosso in realtà che avviene fin dalla notte dei tempi pensiamo al triunvirato romano cioè anche lì c'era un sistema semidemocratico a un certo punto hanno cominciato a guardarsi intorno a dire ogni volta in cui un senatore esce di strada cercano di ammazzarlo aspetta sospendiamo tutto diamo il potere a tre e poi speriamo che questi tre lo mollino il potere e poi abbiamo avuto Shakespeare e via dicendo quindi insomma è stata una vicenda che si è ripetuta varie volte io so che negli Stati Uniti c'è una discussione in atto soprattutto fra intellettuali in cui si comincia veramente a dire di fronte anche alla possibilità di rielezione di Trump ok ragazzi forse stiamo facendo dei danni sapete cosa? sospendiamo tutto e cominciamo a dare il potere a due o tre persone che siano sopra le parti che poi non si è mai veramente sopra le parti e che siano illuminati sperando che siano veramente illuminati e questo discorso comincia a serpeggiare sempre di più ed è interessante perché in realtà è la prova che la storia si ripete veramente sempre con i dovuti distinguo ma è una cosa che noi riteniamo molto distante semplicemente perché siamo vissuti nell'epoca di minor conflittualità nella storia occidentale e quindi ci sembra che sia impossibile però non è così impossibile il fatto che ci sia una sospensione reale di questo meccanismo no anzi non solo non è impossibile ma è quello che si verifica appunto io quello che dicevo concisamente appunto dire che si diventa antidemocratici con la scusa di voler salvare la democrazia e questo è effettivamente quello che sta succedendo anche se poi in realtà queste sono le giustificazioni di facciata che vengono date tra l'altro mi è venuta fuori questa espressione di facciata e vorrei ricordare che questo era il modo in cui Rodotà per esempio descriveva il sistema in cui ci troviamo una democrazia di facciata cioè ci sono le forme della democrazia negli stati occidentali contemporanei ma non c'è la sostanza della democrazia fingiamo seguiamo e pratichiamo i riti della democrazia ma poi in realtà sono riti vuoti perché poi le decisioni vengono prese altrove prendiamo anche per esempio fatti di questi giorni tipo il contenzioso tra le autostrade da una parte e il governo dall'altra è ovvio che se qualcuno ha sbagliato deve pagare duramente però in uno stato democratico chi decide se uno ha sbagliato oppure no ovviamente devono essere i giudici e quindi ci devono essere dei processi ci devono essere delle sentenze e nel momento in cui ci sono delle sentenze in base a quelle sentenze e al grado effettivamente di reato che è stato commesso bisogna far pagare ma un governo che si arroghi il potere di dire no questi devono pagare e devono fare queste cose tra l'altro con misure che dal punto di vista democratico tra l'altro anche soltanto del mantenimento dei patti fanno trizzare i capelli come si può fare un contratto e cambiare per legge le condizioni retroattivamente di un contratto che è già stato fatto anche senza pensare tra l'altro in maniera abbastanza ingenua che dopo un atto di questo genere poi voglio vedere chi è che firma il prossimo contratto sapendo che il governo poi intanto le clausole che ha scritto se ne può fregare e così via quindi è una cosa veramente strana cioè quello che dicevo ci sono i riti della democrazia e non c'è la sostanza tra l'altro il fatto che il governo si arroghi questo potere è in realtà un conflitto di potere tra l'esecutivo e il giudiziario perché il giudiziario che deve in realtà decidere quali sono i reati che sono stati commessi e non il governo il quale tra l'altro di queste commissioni fra poteri se ne fa molte di più perché questo è un caso isolato mentre invece la commissione che c'è fra il legislativo e l'esecutivo è una cosa tremenda cioè noi siamo pre-monteschiani perché in realtà non abbiamo la separazione di poteri spesso si si discute giustamente sulla separazione che ci deve essere tra la magistratura e gli altri due poteri il parlamento e il governo ma non si discute mai sulla separazione che ci deve essere tra il legislativo e l'esecutivo esecutivo letteralmente significa qualcosa qualcuno che deve eseguire non proporre le leggi non è il governo che deve proporle che deve farle approvare da un parlamento che fa soltanto il passacarte no è il parlamento che fa le leggi e il governo le esegue tra l'altro se ci fosse la separazione dei poteri tra esecutivo e legislativo nessun ministro potrebbe essere un parlamentare perché altrimenti sarebbe come avere un parlamentare o un ministro magistrato la stessa cosa se uno dice un ministro magistrato è uno scandalo e se uno dice un ministro parlamentare è la norma invece e invece negli Stati Uniti per esempio dove ovviamente ci sono molte pecche ma avendo un tipo di democrazia anzi tutto più antica e soprattutto più meditata perché è interessantissimo leggere gli atti della Costituente che ci fu che poi arrivò poi alla Costituzione americana che fu approvata nel 1789 quando poi in Francia ci fu la rivoluzione francese tra l'altro con dei punti di contatto interessanti perché Jefferson che era uno dei padri fondatori degli Stati Uniti era in Francia all'epoca per 5 anni come ambasciatore degli Stati Uniti e quindi fu lui che in realtà instillò alcune delle idee che poi finirono nella dichiarazione dei diritti dell'uovo francese attraverso la Fayette quindi molto interessante questo però negli Stati Uniti se uno guarda il governo degli Stati Uniti nessuno di questi fa parte del Parlamento perché il Parlamento viene eletto in un'elezione che è appunto parlamentare e allo stesso tempo si elegge il capo di governo che poi si chiama Presidente della Repubblica ma lui si sceglie i ministri e questi ministri non fanno parte del Parlamento cioè ma queste sono cose proprio l'abc della democrazia io mi stupisco che tutti questi nostri politologi e politici sia gli uni che gli altri mai ne parlino di questo come se fosse una cosa normale anzi quando si parla vorrei solo dire questo ma che quando si parla di governo tecnico lo si considera come se fosse un anatema ma il governo tecnico è quello che ci deve essere se ci deve essere una separazione di poteri tra il governo e la politica quindi è vero scusi l'interruzione no no assolutamente stavo interrompendo io in realtà è un filone molto interessante a cui aggiungo un aspetto una riflessione che mi è venuta in mente mentre lei parlava in realtà la rovina della democrazia è l'istituzione del fondamentalismo della democrazia cosa che voglio dire voglio dire che io per me la democrazia che è come diceva Platone il sistema più imperfetto ma anche l'unico che è veramente sostenibile insomma senza cadere continuamente in guerre fratricidi e via dicendo è dato non tanto dal potere del popolo ma è la suddivisione del potere degli uni sugli altri cioè il fondamento del sistema democratico è io in questo sistema ho il minor potere possibile sugli altri ok perché perché è un sistema in cui ti viene detto in qualche modo guarda tu ora puoi fare della tua vita bene o male più di quanto tu possa fare sotto una monarchia sotto altri sistemi quindi ecco viene meno questa separazione che lei ha ben descritto in virtù del fatto che poi domina l'opinione pubblica Habermas ha scritto un bellissimo libro critica e storia dell'opinione pubblica in cui a un certo punto dice una cosa negli anni 70 mi sembra sei il libro dice una cosa molto interessante dice l'opinione pubblica è destinata a diventare dominante nel sistema decisionale sociale ed è quello che sta succedendo perché oggi noi abbiamo un governo che decide per esempio di lanciare i suoi anatemi contro Benetton autostrade non tanto perché c'è una suddivisione di poteri che porta a una decisione procedurale ma perché l'opinione pubblica è ancora incazzatissima per i morti del Ponte Morandi c'è al dominio un'empatia di pancia che poi porta il governo a interpretare malamente l'opinione pubblica prendendo decisioni totalmente aberranti abominevoli quindi in realtà la democrazia si rovina quando diventa letteralmente la democrazia cioè il governo del popolo che non deve essere quello cioè il popolo dovrebbe essere solo uno degli elementi che vengono messi nella costruzione di un sistema plurale e quando quel pluralismo viene messo a tacere ovviamente succede questo è un meccanismo molto interessante io la chiamo la malattia della nomination cioè è come se ciò che avviene nel grande fratello nel frattempo è sparita l'immagine ok tornata l'immagine ciò che avviene nel grande fratello cioè il pubblico dice io ti nomino fosse anche necessariamente la decisione finale ed è una cosa fuori di testa secondo me perché perché poi nutre anche un narcisismo cioè io faccio parte del popolo quindi io posso decidere tutto per fortuna no ancora no e quando dovesse succedere è meglio andare dall'altra parte del mondo insomma mamma mia ma questa non era una domanda no no questa era una constatazione un completamento del ragionamento interessante che ha fatto quindi siamo partiti dalla laicità a confessionalità e siamo arrivati a critica del sistema democratico che in cui ci troviamo io non so bene quale sia il punto di questa chiacchierata però per me è stata veramente interessantissima vorrei aggiungere una cosa come dicono in inglese there's no point there's no point there's no point magari che però vuol dire una cosa leggermente diversa un po' diversa è vero no in realtà io ovviamente oggi è la sua la sua prima ospitata come si dice oggigiorno qui su Daily Cogito però sappia che da settembre noi avremo uno studio di registrazione una sala e mi piacerebbe molto replicare magari con una chiacchierata più on point ma magari anche no magari di persona magari il nostro nuovo studio organizzando qualcosa di bello quindi io gliela lancio lì e poi ne parliamo ne parliamo in futuro perché per me è stato un grande piacere volevo aggiungere il fatto che in questi giorni è uscito il suo podcast giusto c'è il suo podcast lezioni e conferenze di Pier Giorgio o di Freddy esatti si chiama semplicemente podcast di Pier Giorgio o di Freddy in realtà è una cosa no profit come si dice e non la curo io la cura un ragazzo un fan come si potrebbe dire che si chiama Vita Albano che però poiché mi diceva appunto bisognerebbe fare qualcosa del genere mi ha detto prego facciamolo nel senso di armatevi e andiamoci e partite e in effetti sta mettendo varie conferenze lezioni del passato che forse è bene non dico di mantenere in eterno però per non farle perdere immediatamente le conferenze hanno un po' quello lo svantaggio dell'oralità che è un po' come i concerti dal vivo uno suona e poi la cosa è finita lì però i musicisti hanno da tempo imparato che è bene registrare i dischi live perché c'è un sapore diverso quindi lui sta scaricando molte delle lezioni eccetera e è un podcast molto diverso per esempio da questo in cui c'è un intervento costante continuo regolare invece lì è un po' una specie di come si può chiamare un portale un archivio un archivio appunto dove si possono incontrare anche interviste che ho fatto a varie persone da Beniglio spettacoli con Silvio Orlando con Valeria Sollarino quindi cose un po' più sfiziose che tra l'altro si possono trovare tra l'altro in rete ovvio però è come dire che un libro si può trovare nella biblioteca nazionale del congresso c'è tutto lì dentro però il problema è trovarle le cose d'altra parte i motori di ricerca quello fanno perché trovare le cose in rete di nuovo non è molto facile l'invenzione del motore di ricerca una meta invenzione in qualche modo non è quello che ci permette di andare a scovare le cose che ci stanno in rete e i podcast servono anche a quello a mettere insieme un po' un florilegio diciamo di cose che sono state fatte quindi speriamo che qualcuno le senta poi comunque come ho detto io non ci guadagno nulla quindi è semplicemente il piacere di un po' da pavone di essere che è un motore essenziale della divulgazione bisogna dirlo io sono molto contento io ho già ascoltato alcune puntate vi dico è ben curato e io sono molto contento perché credendo molto nel mondo di internet anche perché insomma ci vivo gran parte di Mettevitei qui io credo che tutti i problemi che abbiamo fatto emergere oggi abbiamo parlato di problemi molti problemi tutti questi problemi in realtà dal mio punto di vista si possono affrontare in un solo modo moltiplicare le voci che dicono cose ragionevoli ecco questo è un po' il discorso e poi se posso aggiungere se posso aggiungere è importante la parola voci perché i podcast sono appunto orali audio e spesso le conferenze sono anche visive uno può andare e guarda però si sa che l'oralità e la multimedialità sono cose molto diverse c'è un famoso episodio per esempio che raccontava McLuhan in uno dei suoi libri degli anni 60 credo che fosse la Galassia Gutenberg o capire i media understanding media in cui lui faceva l'esempio del dibattito che ci fu il primo dibattito televisivo che si fece per le campagne elettorali americane quello del 1960 tra Nixon e Kennedy e questo dibattito era la prima volta che si vedeva in televisione e fu trasmesso anche alla radio ovviamente e quindi c'erano due pubblici diversi quello della radio e quello della televisione però il dibattito era uguale cioè in un caso si sentiva solo la voce e nell'altro caso si vedevano anche le immagini e la cosa interessante è che i sondaggi in seguito a questo dibattito davano Vincente Nixon alla radio e Vincente Kennedy alla televisione perché? perché Nixon era un politico vecchio stampo quindi era uno che era in grado e capace e abituato ad argomentare e quindi a parlare con una certa capacità appunto di parola Kennedy era il politico nuovo era un po' quello che poi diventarono i Renzi o i giovani rampolli della politica con il sorriso aveva 50 denti Nixon invece quando lo si vedeva era un uomo un po' grigio arcigio poi era stato truccato male sudava col cerone e quindi l'impressione in televisione delle cose che lui diceva in realtà si perdevano e primeggiava l'aspetto fisico diciamo così di Kennedy quindi questo è molto interessante anche il fatto che molte conferenze per esempio appunto siano su YouTube non significa che poi uno magari non le va a sentire su un podcast perché la stessa conferenza non viene distratta dalle immagini che spesso che sono un compimento però in genere distraggono l'attenzione dalle parole sì sì assolutamente ma guardi da questo punto di vista è uscito è uscito un articolo uno studio qualche settimana fa se lo trovo lo metto nel link poi lo mando anche a lei eventualmente in cui si diceva che nei paesi anglosassoni il 70% delle informazioni di cui un 15enne 25enne quindi in quel range d'età fruisce è tramite audio quindi in realtà il podcast YouTube sono la riscoperta della letteralmente tradizione orale cioè si sta creando una nuova tradizione orale questo è molto interessante perché poi modifica anche ovviamente noi usiamo parti del cervello diverse per leggere imparare e memorizzare leggendo e ascoltare poi visto che abbiamo citato la filosofia ovviamente la distinzione tra l'oralità e lo scritto cioè la famosa settima lettera di Platone in cui lui diceva delle vie teorie serie non ci sarà mai niente di scritto perché le cose veramente serie si dicono soltanto a chi le sa apprezzare quindi a una cerchia ristretta di persone e così via mentre invece la divulgazione che è quello che lui faceva nei suoi dialoghi quella la possiamo fare e gettarla in pasta al pubblico quindi quello è molto interessante sì 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 assolutamente pensiamo il politico di Platone in realtà era un libro divulgativo nell'antica Grecia pensiamo oggi i libri divulgativi e facciamoci due domande in realtà insomma trovate in descrizione il link per il podcast del professore che vi invito a seguire e io professore è stata una chiacchierata fantastica io mi sono divertito e credo che abbiamo no speriamo realistica non fantastica no fantasticamente realistica ok mettiamola così e non troppo fantasiosa quindi grazie veramente e a me grazie a voi io ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato diffondete mi raccomando e alla prossima professore Odifreddi ci conto certamente benissimo e buona estate per quelli che possono fare vacanze esatto buona estate a tutti e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa alla prossima